Primo giorno di ritiro per i Brindisi, che si è ritrovato presso la sede di Campitello Matese agli ordini di Mister Chianese, che non ha voluto perdere tempo iniziando subito il lavoro con una doppia seduta di allenamento mattino e pomeriggio. Arrivano anche le prime firme dei nuovi volti del Brindisi, che si presenta particolarmente giovane. Si tratta di Alessandro Prezzabile, centrocampista classe 1998, ex Marsala e Vibonese. Il giovane Lorenzo Falzetta, under classe 2000, esterno offensivo proveniente da Roccella, ma con un passato nelle file del Francavilla Insigni. Francesco Napolitano, classe 1999, seconda punta a scuola Napoli, proveniente dalla Civitanovese. Stesso anno di nascita anche per il difensore centrale Giovanni Alfano ed il terzino Simone Siciliano. A questi si aggiungono i nomi che avevamo già anticipato la scorsa settimana. Andrea Vignes, classe 2002, proveniente dalla Salernitana. Alessio Esposito, 2001, ex Portici. E Francesco Di Pasquale, classe 2003, proveniente dalla Juve Stabia. Queste le ufficialità che aumenteranno sicuramente nelle prossime ore. Vicino l'accordo con l'attaccante esterno tunisino Asen Rekic. Il calciatore 22enne vanta quasi 100 presenti nei dilettanti con le maglie di Gladiator, Savoglia, Erculanium e Agropoli. Programmato anche il calendario delle gare amichevoli. Si parte il 19 agosto contro una rappresentativa locale, mentre potrebbero essere più attendibili i test previsti il 24 e 26, sempre del mese di agosto. Grazie a tutti.